in National Hockey League tante volte criticatissimo Timo Herbling questa sera ha giocato una buona partita coronata da questo passaggio per Con che mette dentro Agabia Sguarnita 5 a 4 anche pochi minuti pochi secondi prima ha fatto un grande gioco difensivo con il recupero che ha fatto e qui rivediamo ottimo passaggio su Con Peter Inumelin premiato come migliore del Lugano mi permetto di dissentire Numelin merita premi a profusione ma questa sera non è lui il migliore perché lui è una star non è una San Giros e questa è la vittoria dei lottatori il Lugano ci ha creduto è venuto a giocarsela in quota e alla fine ha avuto la meglio Flamin Con il primo piano sarà lui certamente al microfono di Alessandro Tamburini tra poco Lugano che continua ad esserci in questa sfida